buongiorno a tutti cari amici benvenuti con il vostro andrea al matematico in questa lezione andremo a commentare dei vecchi temi circa l'università di bergamo circa i vettori le matrici e gli spazi allora consideriamo quindi in r3 i seguenti vettori quindi segue il vettore w che è meno 2 meno 1 e 0 il vettore v che è 0 8 1 e il vettore t che è 2 3 e meno 1 quindi abbiamo scritto i vettori quindi w meno 2 meno 1 0 v 0 8 1 t 2 3 1 e dobbiamo determinare la terza componente del vettore z che è 5 v più 3 v più 2 t quindi abbiamo un vettore z che è 5 volte il vettore v w più 3 volte il vettore v più 2 volte il vettore t ovviamente quindi se noi vogliamo soltanto la terza componente è inutile che andiamo a fare tutti i calcoli su tutti i vettori quindi andiamo a determinare la terza componente noi sappiamo che in una somma vettoriale sostanzialmente la l'operazione che c'è tra i vettori sostanzialmente implica ognuna delle componenti quindi vuol dire che la terza componente di z sarà 5 volte la terza componente di v più 3 volte la terza componente di v più 2 volte la terza componente di t quindi semplicemente andremo a fare 5 per la terza componente di v ovvero 5 per 0 più 3 per la terza componente di v e più 2 per la terza componente di t quindi 5 per 0 più 3 per 1 più 2 per meno 1 ovviamente quindi 5 per 0 0 quindi 3 per 1 3 2 per meno 1 meno 2 quindi 3 meno 1 sarebbe praticamente 1 ora andare a dire secondo esercizio per quali valori del parametro reale k i vettori 1 0 3 1 meno k 2 e 0 1 meno 3 risultano linearmente indipendenti allora qui abbiamo quindi i nostri tre vettori quindi x 1 0 3 1 meno k 2 che è il vettore y il vettore z che è 0 1 e meno 3 ora ovviamente un modo per poter andare a verificare questa condizione è praticamente quella di costruire una matrice che ha per colonne o per righe in questo caso non importa i vettori 1 0 3 1 meno k 2 e 0 1 meno 3 ora ovviamente se noi vogliamo che questi vettori siano linearmente indipendenti allora vogliamo che le tre colonne di queste matrici appunto siano sono linearmente indipendenti e noi sappiamo che esiste un concetto chiamato concetto di rango di una matrice che esprime appunto il numero di righe che coincide con il numero di colonne linearmente indipendenti quindi in sostanza noi vogliamo che il rango di questa matrice valga 3 in sostanza ora noi sappiamo che nella analisi tutto quello che stiamo dicendo qui comunque se prendete il corso associato di teoria ci sono tantissimi approfondimenti con tantissimi esempi quindi vi consiglio di prendere il diciamo anche il corso di teoria perché qui troverete veramente qui trovate uno spicchio che è solo la risoluzione finale mentre nel corso di teoria trovate proprio tutta dalla z tutta la teoria sulle matrici in maniera molto molto specifica comunque va bene insomma per chi di voi abbia già fatto la teoria a è una matrice di ordine 3 per 3 e quindi potenzialmente il suo rango massimo è 3 ricordiamo che il rango massimo coinciderebbe col minimo valore tra il numero di righe e il numero di colonne ora questa è una matrice quadrata quindi ovviamente il minimo tra 3 e 3 risulta essere 3 che è appunto il rango potenziale massimo quindi di conseguenza dobbiamo analizzare di questa matrice i minori di ordine 3 la teoria ci dice che se esiste almeno un minore con determinante diverso da zero quindi i minori di ordine 3 sono sotto matrici quadrate in sostanza ricavabili e l'ordine del minore non è altro che non è altro che il numero di righe colonne di questo minore no quindi i minori sono sotto matrici quadrati che posso andare a ricavare dalla matrice a eliminando un certo numero di righe e di colonne che potrebbe essere anche nullo nel caso di matrici quadrate quindi appunto in questa situazione essendoci una matrice quadrata l'unico minore che determineremo quello di ordine maggiore sarà praticamente un minore di ordine 3 per 3 che appunto coinciderà con la matrice stessa ora diciamo che esiste una relazione tra il rango e il determinante nel senso che se il determinante del minore di ordine più grande in questo caso quindi di ordine 3 risultasse diverso da zero allora concluderemo che il rango della matrice a vale 3 e di conseguenza vuol dire che le tre colonne sono linearmente indipendenti e di conseguenza i tre vettori x y z sono linearmente indipendenti quindi se il determinante è diverso da zero allora diremmo che il rango vale 3 se il determinante di tutti i minori dello stesso ordine più elevato in questo caso l'unico minore che troviamo di ordine 3 vale 0 quindi non solo di 1 ma di tutti i potenziali minori che troviamo che in questo caso di ordine massimo ce n'è solo uno allora vuol dire che il rango sarà al di sotto del 3 quindi il procedimento è anche abbastanza semplice perché una volta che noi abbiamo messo i tre vettori in colonna andiamo a studiare il determinante e lo vogliamo diverso da zero in quanto vogliamo una indipendenza lineare dei tre vettori quindi vogliamo che nessuno dei tre vettori quindi ad esempio il vettore x possa essere scritto come combinazione lineare degli altri n meno 1 vettori quindi ad esempio x non lo voglio scrivere come una combinazione lineare del vettore y e del vettore z ora per fare questa cosa quindi prendiamo il minore di ordine maggiore imponiamo che il determinante di questo minore sia diverso da zero ora anche qui per determinare il determinante di questo minore andiamo a utilizzare la regola di laplace la regola di laplace che ci dice che andiamo a fissare l'attenzione su una riga o su una colonna a caso in questo caso possiamo prendere ad esempio la prima riga e di conseguenza andare a stabilire i segni degli elementi su questa riga quindi gli elementi in posizione pari ovvero in cui la somma della riga della colonna risulta essere un numero pari andranno attribuire un segno positivo quindi più per il primo elemento che si trova sulla prima riga della prima colonna e quindi 1 più 1 fa 2 meno per il secondo elemento e più per il terzo ora ovviamente la regola di laplace mi dice che posso calcolare il determinante di una matrice andando quindi a fare una sommatoria degli elementi iesimi della riga o della colonna considerati moltiplicati per il loro segno e moltiplicati per il determinante delle sottomatrici quadrate ottenibili eliminando proprio l'iesimo elemento quindi in questo caso andiamo a prendere segno dell'elemento che è più per l'elemento che è 1 per il determinante della sottomatrice risultante eliminando la prima riga e la prima colonna e quindi per il determinante di meno k1 e 2 meno 3 poi proseguiamo con il secondo elemento quindi segno del secondo elemento meno per il secondo elemento 1 per il determinante della sottomatrice ricavata appunto eliminando la prima riga e la seconda colonna e quindi eliminiamo ci resta 0 3 e 1 meno 3 ovviamente più 0 possiamo anche trascurarlo quindi più 0 per il determinante di 0 3 meno k2 visto che il risultato sarà 0 ora imponiamo quindi questo determinante con la regola di laplace diverso da 0 non era l'unica regola perché esisteva anche la regola di sarrus essendo 1 3 per 3 quindi comunque uno che moltiplica il determinante di meno k2 1 meno 3 scritto in colonna sarebbe quindi uno che è trascurabile per determinante di una 2 per 2 ovviamente prodotto degli elementi sulla diagonale principale quindi meno k per meno 3 quindi 3k meno il prodotto degli elementi sulla diagonale secondaria quindi meno 2 poi meno 1 quindi meno aperta tonda il determinante di questo di questa matrice quindi prodotto degli elementi sulla diagonale principale 0 per meno 3 che fa 0 e poi meno prodotto degli elementi sulla diagonale secondaria quindi meno appunto 3 quindi a questo punto lo dobbiamo imporre diverso da 0 vedete che sulla sinistra troviamo un polinomio in k di primo grado quindi questo ci porterà una risoluzione di un'equazione o disequazione se mettiamo il diverso ma meglio equazione di primo grado e quindi abbiamo 3k meno 2 poi meno meno 3 ovvero più 3 spostiamo i numeri a destra lasciamo la costante l'incognita a sinistra e quindi abbiamo 3k che è diverso da quindi sul lato sinistro 3 meno 2 fa 1 spostato a destra fa meno 1 e quindi k diverso da meno un terzo quindi questa è appunto la risposta per k diverso da meno un terzo i vettori x 1 0 3 y 1 meno k 2 e z 0 1 e meno 3 risultano linearmente indipendenti ovvero nessuno di questi vettori può essere scritto come una combinazione degli altri vettori quindi non posso scrivere x come combinazione lineare di y z non posso scrivere y come combinazione lineare di x e z non possono scrivere t come combinazione lineare di x e y ora questa t che compare qui vi faccio notare è la t di trasposizione cosa significa che questo vettore x mi viene presentato in riga ora una riga trasposta diventa una colonna vedete che quando abbiamo scritto il vettore colonna non abbiamo scritto la t di trasposizione per avere questo ed altri esercizi sulla matematica ti consiglio di andare nell'eserciziario in cui troverai tantissimi esercizi riguardanti lo studio di funzioni le derivate gli integrali l'algebra lineare e le funzioni a due variabili chiaramente per una comprensione più completa di tutti gli argomenti esiste il corso completo di matematica che parte dal ripasso delle equazioni allo studio di funzioni derivate integrali algebra lineare funzioni due variabili ed infine alcuni test esiste anche in associato il video corso sui teoremi in cui potete trovare i principali teoremi della matematica in alternativa potete seguire il percorso con i mini corsi e che in cui appunto all'aspetto teorico sono associati anche gli esercizi pratici dell'eserciziario che partono dai concetti base alle prime equazioni dall'equazione i primi studi di funzioni derivate integrali funzioni due variabili algebra lineare e teoremi mi raccomando seguite il canale ci vediamo sempre qui a parlare di matematica sempre col vostro andrea il matematico grazie a tutti grazie a tutti